Gentili telespettatori, buona giornata. La Schlein dice che è un fatto gravissimo. Gra-vissimo. Quale sarebbe sto fatto gravissimo? È che la Meloni e von der Leyen vanno in Egitto per il controllo delle rotte dei clandestini. Vanno ad offrire un aiuto economico in cambio del blocco totale delle partenze e del transito dall'Egitto per altri paesi. Secondo la Schlein è qualcosa di grave perché lì non si rispettano i diritti umani e soprattutto per il fatto di Regeni. Vi ricordate il ricercatore? Sapete tutti quello che è successo a Regeni, no? Anche se non c'è una sentenza definitiva sappiamo tutti quello che è successo. solo che risulta ovviamente impossibile far sì che l'Egitto ammetta di essere responsabile del decesso di questo ragazzo. È impossibile. Uno Stato non ammetterà mai di aver fatto una cosa del genere. Secondo la Schlein e tanti altri noi dovremmo chiudere completamente con l'Egitto e far finta che questo paese non esista più. Non è una teoria così strampalata, attenzione. Non è che hanno detto una sciocchezza. Però i paesi devono interagire con gli altri. Se noi abbiamo un problema di clandestini che partono dall'Egitto, che passano dall'Egitto per andare in Libia e in Tunisia, la Meloni ha il dovere di parlare con questo Stato per tentare di fermare questo. Eh ma Regini, è brutto dire show must go on, come cantavano i Queen, se non sbaglio, vero? Freddie Mercury. Show must go on. Lo spettacolo deve continuare, la vita deve continuare, le relazioni tra gli stati devono continuare. C'è un gioco di opportunità. Importante il fatto Regini, ma dobbiamo fermare i clandestini. Quindi ci sono delle cose che hanno una priorità sul caso Regini. Anche perché, come vi dicevo, ve l'ho detto, non succederà mai che l'Egitto ammetta responsabilità in questo. Non succederà mai che l'Egitto consegni i suoi agenti dei servizi segreti per processarli in Italia. Mai. Quindi possiamo andare avanti altri 150 anni a chiedere verità su Regini, ma la verità non arriverà. Mai. Anche se noi sappiamo quello che è successo, dall'altra parte non lo ammetteranno mai e le persone non verranno mai processate. Detto questo, bisogna anche essere realisti, bisogna andare avanti. Dobbiamo fermare i flussi migratori illegali verso l'Italia? La Meloni deve andare lì. E poi parlerà o non parlerà di Regini? La Meloni ha liberato Patrick Zacchi. C'è riuscita. Vedrete che libererà anche la Salis. Adesso dovrebbe esserci il processo. Dovrebbe essere a momenti, se non sbaglio. La Meloni ha liberato gli ostaggi in Mali. La Meloni ha liberato Chico Forti. Ma qui, con il caso Regini, che poverino non c'è più, la Meloni che dice che l'Egitto ha ammesso che è colpa loro, sono stati loro e ci danno gli uomini dei servizi da processare, scordatelo. Per quanto può essere brava la Meloni, in politica internazionale, per quanto può essere brava, questo non accadrà mai. Poi magari la Meloni mi stupisce con effetti speciali. Potrebbe anche essere che la Meloni torni in aereo con dietro ammanettati quelli che hanno combinato il fattaccio. Non è impossibile, ma lo vedo altamente improbabile, molto, ma molto improbabile, che l'Egitto possa consegnare delle persone. Eventualmente prende tre poveri Cristi, te li consegni. Sono stati loro, che magari non è neanche vero. Però solo il fatto di consegnare a un altro Stato delle persone non potrà succedere. Quindi a me spiace, per il caso Regini, la Meloni può andare lì e dire ad Al-Sisi ma allora il caso Regini quello di... Se non si va da nessuna parte, lo capite che non si va da nessuna parte. Intanto la Meloni prosegue con il piano Mattei, i migranti e in Egitto appunto per dare con l'Europa 5 miliardi di euro, che diventeranno 7-8 miliardi di dollari. 7,2 miliardi di euro. Verrà aiutato l'Egitto, che sta per fallire. È praticamente quasi fallito. Questi soldi lo risollevano e alla grande, perché parliamoci chiaro. In Africa 8 miliardi di dollari valgono per 10 volte che in Europa. Subito gli verrà dato un miliardo, così possono con la liquidità salvare lo Stato. Ma l'Europa è perentoria. Noi ti diamo i soldi e non deve partire neanche una persona. Se no, finito. Chiaro, no? Quindi l'Europa va lì dicendo io ti do i soldi, facciamo degli accordi, bla bla bla, tutto quello che vuoi, ma neanche una persona deve più partire. E neanche passare in Libia o in Tunisia. Perché se non li fai partire, quelli vanno poi a partire dalla Tunisia, la Tunisia non li fa partire, vanno a partire dalla Libia. Che la Libia per adesso, insomma, non si è riusciti a fermare le partenze da lì. Ma la Meloni ci sta lavorando sotto banco, ne sono convinto. A questo punto la Schlein parla di fatto gravissimo, ma la Schlein, mi scuserà, ma credo che questa signora non ha capito le dinamiche tra Stati, la geopolitica, la politica internazionale. Cosa credete? Che noi non commercializziamo con l'Egitto, non c'è un import-export dall'Egitto. Certo che c'è. Allora avremmo dovuto fermare, buttare fuori l'ambasciatore, richiamare il nostro, chiudere i rapporti. Questo non succede neanche con le guerre. Spiace, come vi dicevo prima, per il caso Regeni, la Schlein che dice è gravissimo quello che fa la Meloni, ma credo di, se dico che la Schlein non ha capito che cos'è la politica internazionale, non credo di andare molto lontano dalla realtà. Quindi, lasciamola sbraitare del fatto gravissimo, Meloni vai, firma e ferma le partenze dall'Egitto. Poi magari la Meloni ci mette dentro anche il caso Regeni e chiede ad Al-Sisi fammi tornare in Italia con qualcosa in mano. Però il rischio è che quello là prenda tre persone a caso e te le mandi in Italia se sono stati loro. Non so se ci siamo capiti. Questo l'avevo già sentito in passato. Davvero vogliamo che arrivino tre persone, tre poveracci presi per strada e mandati in Italia se sono loro i colpevoli? Siamo sicuri che questa sarebbe la giustizia? Ho dei dubbi. Grazie a tutti. Arrivederci a presto.